Musica Ultimi dieci giorni di campagna elettorale per le amministrative in Irpinia. Rinunciano al faccia a faccia a Telenostra i tre candidati alla fascia tricolore della cittadina mandamentale. A Baiano la tensione resta alta e in queste ore si preferisce smorzare i toni. Anche per questa ragione l'uscente Montanaro e gli sfidanti Litto e Mascheri, pur partendo da motivazioni e posizioni diverse, preferiscono concentrare gli sforzi sulle singole iniziative di campagna elettorale. A contribuire al clima velenoso nelle ultime settimane, le invettive incrociate arrivate dai palchi dei comizi elettorali, la circolazione di plichi anonimi, gli attacchi personali rilanciati tramite social network. Rispettiamo le volontà dei candidati e ribadiamo che le porte degli studi di Telenostra resteranno aperte. Se i tre volessero ritrovare la via del confronto sui contenuti non ci tireremo indietro. Ma di Baiano e di programmi continueremo a parlare, nell'attesa degli ultimi due confronti a cui Telenostra sta già lavorando a Tripalda e Solofra.